Vi ricordavo più madre, però, che cosa ci cantate, che cosa ci cantate, ecco, voglio che sia la più giovane che ve lo dice, che cosa ci cantate stasera? Microfono, mi sentite? Paglia luce, potevamo sottotitoli con effetti speciali, dopo stasera, e poi le insamelle partiene la musica, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Paglia luce, potevamo sottotitoli con effetti speciali, potevamo sottotitoli con effetti speciali, Paglia luce, potevamo sottotitoli con effetti speciali, potevamo sottotitoli con effetti speciali, potevamo sottotitoli con effetti speciali. Paglia luce, potevamo sottotitoli con effetti speciali, potevamo sottotitoli con effetti speciali. Paglia luce, potevamo sottotitoli con effetti speciali, potevamo sottotitoli con effetti speciali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.